Lasciatela parlare! Grazie! Vorrei veramente ringraziare tutti quanti per essere venuti, per aver partecipato al risultato, non solo stasera, ma comunque negli ultimi tre anni che sono trascorsi dalla laurea. Comunque questo non è solo, cioè io non lo vivo solo come un mio risultato, ma lo vivo come un risultato dettaglio. Grazie! Grazie! Buongiorno! 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 Buongiorno!